E ciao ancora, ho deciso di spezzare il video, così questo video qua, Mari, o vi parlo di un'altra cosa, o proprio non parlo, non parlo di niente, mostro la stradina, tanto per mostrare un po' cosa c'è, cosa c'è qui attorno. Oggi non sarete contenti di vedere sempre il mio bel faccione, questo campo, non avete mai visto il campo così. Vediamo, vediamo se posso parlare di qualcos'altro. Non mi viene in mente molto, ah sì, dai parliamo dello scandalo, no non è uno scandalo, di quell'episodio che è successo molto recentemente, qualche giorno fa, che gli Stati Uniti hanno espulso 35 diplomatici russi. Allora, qual è il fondamento di questo? Beh, l'accusa è che la Russia abbia organizzato attacchi informatici per pilotare, diciamo, le elezioni americane e far vincere Trump. Beh, di questo bisogna sottolineare che non c'è nessuna prova al momento, almeno non è stata fornita al pubblico, assolutamente nessuna prova. Intanto, sia chiaro, non si parla di hacker che hanno, che sono entrati nel, non so, nel sistema delle votazioni e hanno manomesso i calcoli dei voti. La votazione è stata, a quanto si dice, assolutamente regolare. Non c'è stato nessun hack in quel caso là. Quello di cui ci si lamenta è che la Russia sia penetrata nei sistemi del partito democratico americano, abbia raccolto informazioni dai server di email e abbia fornito tutti questi dati a Wikileaks che poi li ha pubblicati. Sono email vere. Quindi, diciamo, quello che secondo me, e secondo, voglio dire, secondo un giornalista, insomma, normale bisognerebbe parlare, prima di tutto è il contenuto di quello che è stato rivelato. Come questo sia stato ottenuto? Chiaramente è una cosa molto importante per il punto di vista della sicurezza e anche giudiziare, nel senso che se c'è stato un reato questo deve essere certamente punito. Però, dal punto di vista anche della legittimità delle elezioni, questo non cambia assolutamente nulla. Diciamo, sono state rivelate delle informazioni che magari, sì che erano segrete, però, diciamo, che hanno rivelato come nella campagna elettorale di Hillary Clinton, sono state commesse delle, forse non irregolarità, però, diciamo, il Partito Democratico voleva che il suo candidato fosse Hillary Clinton e non Bernie Sanders, che aveva un consenso popolare, specialmente tra alcune fasce, tra le fasce più deboli, più emarginate, che era molto, molto superiore a quello di Hillary Clinton. Chissà, poteva anche vincere, alcuni dicono di no, forse questo non è neanche importante adesso discutere su questo. Però, diciamo che, almeno secondo me, sarebbe importante che il Partito Democratico americano facesse un po' di, un esame di coscienza, facesse un po' di pulizia e, prima di tutto, prima di lamentarsi del risultato delle elezioni, praticamente, è semplicemente stato esposto quello che faceva, si è perso per quello, ma, prima di, a Caniesi, ciò che ha pubblicato le informazioni, o ha rubato queste informazioni, ecco, sarebbe il caso di mettersi una mano sulla coscienza e cercare di pulire un po' la prima. Ma, vabbè, ma cosa volevo dire di questa storia? Beh, allora, aspettiamo, Obama mi parebbe detto che tra qualche giorno, beh, l'ha detto qualche giorno fa, quindi dovrebbe essere abbastanza imminente, verranno fornite tutte le informazioni su questo caso, quelle che possono essere rivelate, che dovrebbero convincerci che effettivamente è stata la Russia a guidare questa operazione. Io sono molto scettico, anzi, diciamo che non ci credo per niente. Allora, è possibile, certamente, che siano degli hacker russi che hanno rubato queste informazioni qui. Però non credo, lo credo davvero improbabile, che siano stati, che abbiano agito per ordine del governo russo, o di Putin, o dei servizi segreti russi. Lo trovo assolutamente poco credibile, e sapete perché? Perché sarebbe immensamente stupido. La cosa stupida non è tanto il fare questo hack, voglio dire, due potenze più o meno avversarie. È logico che si spiano, che fanno, che magari hanno anche conoscenza delle mail degli altri. Pensate un po' agli americani che spiavano la Merkel, che è un'alleata, a maggior ragione, è normalissimo che la Russia spidi gli Stati Uniti, e viceversa. Non ci sarebbe nessuno scandalo su questo. Non dico che va bene, però, insomma, ce l'aspettiamo. No, la cosa strana è che se davvero il governo russo, o i servizi segreti russi, avessero organizzato questo hack, non avrebbero mai fornito queste mail a Wikileaks. Sarebbe la cosa più stupida da fare. Perché fornire le Wikileaks? Le avrebbero tenute. Le avrebbero tenute e, anzi, avrebbero cercato, se fosse in qualche modo possibile, di far vincere la Clinton e poi utilizzarle come arma di ricatto. Non ha senso pubblicarle per far vincere Trump, che è un candidato che, sì, sembra essere più amichevole nei confronti della Russia, però che è una persona imprevedibile e le cui politiche non sono assolutamente chiare. Nel senso che al momento non si sa bene, nessuno sa cosa farà. Ecco, è una grandissima incognita, quindi è molto più probabile che la Russia avrebbe voluto far vincere Hillary Clinton, che è sicuramente all'apparenza più ostile di confronti della Russia di Trump, però è un male noto. Voglio dire, è come Obama, non c'è una gran differenza. Sarebbe stato molto meglio farla vincere avendo un'arma per ricattarla. Dopo bisogna vedere quanto avrebbe funzionato. Magari non avrebbe ceduto al ricatto, però, insomma, sarebbe stato un bello scandalo se Hillary Clinton fosse stata eletta e poi fosse stato rivelato che lei aveva, come si dice, non boicottata, ma aveva cercato di danneggiare, ecco, la campagna di Sanders. Questo sarebbe stato un colpo molto pesante. Avrebbe dovuto rispondere ai suoi elettori. Non so se si sarebbe arrivato all'impeachment, però uno scandalo così è davvero pesante. Invece adesso, avendo perso, sì, non se ne parla poi più di tanto. Ecco, questo volevo dire, che secondo me aspettiamo di vedere intanto che informazioni vengono pubblicate. Più che dire che gli hacker sono russi, secondo me non si riuscirà ad arrivare. Secondo me, tra l'altro, è molto più probabile che tutte queste informazioni che daranno siano più o meno false o comunque non concludenti e che le mail siano effettivamente state rubate da un membro del Partito Democratico ma era insoddisfatto così che, magari della campagna di Sanders, che ha voluto vendicarsi in qualche modo, ecco. Aspettiamo e chi vivrà vedrà. Vi saluto. Ciao ciao.